Domenica cari amici rossoneri, come state? Un saluto, un saluto dopo una vittoria, ben ritrovati, buona domenica di relax, credo, un po' per tutti, spero, un abbraccio ovviamente a voi, alle vostre famiglie, a tutti quanti, soprattutto ovviamente ai milanisti, magari qualcuno in famiglia qualche non milanista, non è il mio caso, almeno è una famiglia un po' più ristretta e dal lato mio, da parte mia moglie, qualcuno, però vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. Allora ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like qui sotto, di iscrivervi qui, attivate la campanella, mi raccomando, attivate la campanella e fate iscrivere un vostro amico o più amici, più amici, più possibilità di vincere la maglietta, ci siamo quasi, ne mancano pochi e poi uno di voi verrà estratto e vincerà la maglia del Milan di questa stagione ovviamente ufficiale. Pensiamo a ieri, pensiamo anche a martedì con questa occasione importante di fare di fatto un'impresa per quello che era il girone all'inizio, per come si era messo complice, torti arbitrali. Ragazzi, ho visto delle classifiche peggiori, confesso, guardando questa mattina sul televideo magari, dove volete voi, come vecchi tempi, ho visto classifiche peggiori. Devo dire che sicuramente avrei preferito un passo falso dell'Inter e dall'altra parte abbiamo messo in cassaforte il piazzamento, i primi quattro posti, quindi in Champions League ci andiamo. Non toccare ferro, tu no, dai ragazzi, abbiamo allungato quantomeno sulla Roma, vediamo questo, avrei preferito, ripeto, un altro risultato, ma va bene comunque, è stato comunque, anche guardando Napoli-Atalanta, un weekend positivo, avendo fatto noi il nostro dovere e vediamo una classifica che si sta abbastanza delineando, ovviamente non è ancora definitiva, lo sappiamo, ma chiedo scusa, ci ha dato delle indicazioni importanti. Detto questo, la Roma sembra poca cosa, soprattutto con fuori tutti quei giocatori, insomma, quindi se si saltano gli altri va bene, a noi non interessa. Veniamo alle pagelle, ragazzi, con note positive, anche delle cose non tanto positive, voglio condividere con voi, sentire il vostro parere. Intanto ricordiamo che andiamo a 38 punti, uno in più di un anno fa, quindi abbiamo rimesso anche la spunta verde con il punteggio rispetto all'anno scorso, l'anno scorso in questa partita avevamo pareggiato, quest'anno abbiamo vinto. Mignan ha fatto un lancio a quello per Krunic, che di testa fa la sponda a Leao, che poi non sfrutta, per il resto alla fine esce con i pugni nel finale, non so se si sia fatto la doccia, senza voto, senza voto Magic Mike Mignan, anche con i piedi però partecipa tanto, mi è piaciuto molto, Florenzi a un certo punto nel secondo tempo dice Mike, calmati, datti una calmata, rallenta, perché è uno che ha voglia subito di rimettere l'azione in gioco, che non si accontenta, che vuole far ripartire l'azione e magari in quel caso Florenzi voleva un po' più rifiatare, è un aneddoto carino. Florenzi, ecco, Florenzi che fino a ieri non aveva fatto bene complessivamente, a parte qualche piccola parte, ieri a me è piaciuto, bene, 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 che sia anche lui in crescita, di condizione sicuramente, di convinzione anche, non gli manca, poi post partita dirà, Lautaro si è lamentato per il terreno di gioco, io dico che i grandi campioni devono giocare, non pensare a queste cose, pac, si luro. Detto questo, pensando al campo, propositivo, spesso pericoloso la davanti, andava, sfondava, entrava in area, metteva palle, dietro non abbiamo rischiato, mi è piaciuto, mi è sembruto soprattutto su di gira a livello di condizione, e se sei su di gira di condizione tutto viene di conseguenza, quindi un bel 7 a Florenzi, che finalmente speriamo può dare il suo contributo. Tra l'altro non è il ruolo che preferisce, perché lui preferisce giocare davanti. Poi, Tomori, anzi scusate, lui preferisce giocare dietro, no, è il ruolo che preferisce, ho detto una cavolata, Tomori, Tomori è Tomori, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Tomori non abbiamo rischiato nulla dietro, per me è un 6,5, nel senso che comunque non è stato particolarmente sollecitato, non è stato impegnativo, potrebbe dargli anche 7, però un 6,5 sia a lui che a Romagnoli, coppia difensiva centrale che ha funzionato bene, è diventata la nuova coppia di titolari, oggi vi daremo tra l'altro ulteriori novità sul mercato, magari anche in questo video qualcosina. Teo Hernandez ha fatto nel primo tempo un errore con un disimpegno in uscita, poi fortunatamente non c'è tanta qualità in attacco, almeno ieri della Salernitana non ne hanno approfittato, mi è sembrato complessivamente, qualche volta dato in fondo, mi è sembrato che abbia giocato un po' con il freno a mano tirato, si sia gestito, è un 6, è un 6 senza famiglia, senza lode, Bakayoko, una bella palla a Brahim che poi non ha approfittato, poi partita normale, si è fatto ammonire, lì non ti devi far ammonire, costringi poi Piola a toglierti, lo sapete, giallo è inutile, lui avrebbe dovuto fare 90 minuti anche per trovare più condizioni, per non far giocare altri, è un errore che non ci deve essere, come ho scritto oggi su Milan News, deve alzare il ritmo con le gambe e con la testa anche perché a gennaio deve giocare, che sì bene, che sì bene, quel gol non era facile, ha trovato poi la via giusta passando la palla sotto le gambe dell'avversario, ha rischiato di segnare anche altre volte, bene, ha tenuto bene il campo, ha dominato, ha segnato pure il gol, quindi con il gol il voto per quanto mi riguarda un bel 7,5. Altro che ha segnato Salemakers, gol che mancava in campionato dal 20 dicembre dell'anno scorso, quasi un anno, gol che gli farà benissimo, un gol bello, non scontato, palla di rientro sul sinistro e pac, a girare, molto bene, ha fatto bene, è uno di quelli che mi è piaciuto di più, anche quando ha segnato a sinistra ha fatto bene, pure da quella parte, anche per lui un bel voto, un bel 7,5 ha di fatto chiuso la partita con il raddoppio. Brahim ha avuto quella palla da Bakoyoko, però ha preso l'esterno della rete, ha dato una bella palla a Leao, che non è approfittato, altra palla bella di tacco a Leao, forse un po' corta, mi è piaciuto molto nel primo tempo, creava superiorità numerica, pericoli, nel secondo è un po' calato, ha avuto un paio di occasioni grosse, ha inuto 60, ha fatto quel dribbling in più, e poi da falso 9 ha perso un po' il tempo, con quella bella imbeccata, è uscito poi Belek, lì doveva cercare il colpo sotto, subito, pronti via, e insomma ha poi avuto un'altra palla d'oro, da solo lì ha tirato a lato, impreciso nel secondo tempo, mangia gol nel secondo tempo, gli do complessivamente un 6,5, considerando la partita che ha fatto soprattutto nel primo tempo, deve trovare la via del gol, deve ritrovarla meglio, però un 6,5 c'è. Leao, quando parte, vedi, parte, va sul fondo, mette dentro la palla che si segna, quindi l'assist è suo, poi dorme un po', al ventesimo può sfruttare meglio un'occasione, in generale non sembra la versione Killer Instinct che gli chiede il popolo rosso-nero e Pioli stesso, poi riceve una botta, ha sostituito al minuto 45 per questa botta che ha provocato un indurimento, per lui appunto un 6,5 complessivo, c'è l'assist, non una delle serate migliori o dei pomeriggi migliori, però, vabbè, Pellegri purtroppo senza voto si fa male, si fa male subito, certifichiamo la fragilità, non che ce ne fosse bisogno, è terribile fragilità e che è un giocatore sul cui purtroppo non si può occultare e che deve, secondo me, far pensare a un innesto anche a gennaio là davanti, se si può. Magari fine prestito di Pellegri che va a giocare altrove in prestito e prendiamo un altro giocatore che dà garanzie. Clunic è entrato bene, è minuto 15, ha fatto un po' anche lui quasi il falso 9, è un giocatore intelligente ragazzi, io su di lui mi sono ricreduto molto, dove lo metti gioca, ha fatto anche la punta, mille ruoli, ha avuto al 41esimo, si è preparato lui molto bene, una occasione, ha saltato l'uomo sul destro, ha tirato, non è riuscito a segnare, poi, prima, anzi dopo, al 44esimo, l'assist di Testa Leao che non è approfittato sul lancio di Meignan. Bene, partita di intelligenza, lui, tatticamente, non gli si può dire nulla, dove lo metti gioca e, sinceramente, mi ricredo, un jolly così, un jolly così, serve in ogni squadra e sono contento di averlo, me ha colpa, magari ci dedicherò anche un video. Ben Nasser un tempo, ha dato una bella palla appunto per Vraim che non ha sfruttato, poi ha avuto il pestonelle finale rimasto in campo, un 6,5 per l'open Ben Nasser, secondo me ci sta. Messias, un capolavoro, il colpo di tacco per Florenzi che entra in area, davvero capolavoro che soltanto i grandi giocatori che hanno grande qualità possono fare. Ha tirato con il tiro a giro con Belek che ha fatto una grande parata, una paratona anche dopo ha fatto un altro tiro con la combinazione. La sensazione è che questo giocatore, quando tocca la palla, fa una cosa, o efficace o pericolosa, che magari sono un bel connubio. Quando tocca palla è pericoloso e per me è un bel 7 per come è entrato, davvero molto bene. Ballo Touré, un 6, è andato a sfondare qualche volta, era spesso più avanti lui di Salemakers, quasi da attaccante aggiunto. Tonali, anche lui, un 6, ha provato di destro con la palla che ha scheggiato anche il palo. Pioli, giusto il turnover, Florenzi, Baccaioco, Pellegri, giusto anche togliere Baccaioco perché non bisogna prendere rischi. È un 7, 38 punti, uno in più di un anno fa e adesso pensiamo alla gara con il Liverpool. Ricapitolo, ecco, per quanto riguarda il discorso mercato, adesso ne parliamo. Ricapitolo, vi do prima il mio MVP. Senza voto Mignan, 7 Florenzi, 6,5 Tomoli e Romagnoli, 6 Teo, 6 Baccaioco, sarebbe 6 e meno per quel giallo inutile, Chessi 7,5, Salemakers 7,5, Diaz 6,5, Leao 6,5, senza voto Pellegri, Krunic 7, Benazer 6,5, Messias 7, Ballotouré e Tonali 6, 7 Pioli. Il mio MVP lo do molto, volentieri, a Salemakers, che trova il gol, in un momento magari per lui un po' complicato visto che era entrato Messias e a suon di gol aveva trascinato il Milan, gol importante, bene così, un bel 7,5, il mio MVP va a Salemakers. Bene anche Florenzi, bene anche Chessi, un po' meno bene, ripeto, Teo, Baccaioco e purtroppo Pellegri che è ingiudicabile. Per quanto riguarda il mercato oggi ne parleremo, ci sono indicazioni importanti sul difensore, su Pellegri il Milan valuta la possibilità di interrompere il prestito, ma ne parleremo in uno dei prossimi video in maniera più profondita. Diciamo che oggi difensore, per forza di cose, centrocampista, magari anticipare Adli e là davanti se si può fare qualcosa non è fatto male. Ne parliamo più tardi, forzamina oggi più che mai, domani ancora di più, ho visto classifiche diverse, ho vissuto comunque weekend peggiori. Un abbraccio, tanti like, iscrivetevi e iscrivetevi se siete d'accordo con il mio MVP. Salemakers, ciao!